Gentili telespettatori, buona giornata. Massimo Giletti, conduttore, giornalista di La Sette, che a me nell'ultimo anno e mezzo non è piaciuto per niente, come si è comportato facendo i programmi in un certo modo, a me è proprio caduto come giornalista e come conduttore televisivo. Avevo una stima molto più alta di lui, mi è scesa veramente in basso. Però su questo che sta dicendo oggi è assolutamente corretto. Dice, ma la Meloni è sbagliato a attaccarlo, fa capire alla sinistra, ma che cosa continuate? A demonizzare l'avversario, perché demonizzare l'avversario non cambia i voti degli schieramenti, cioè dicendo che la Meloni è un possibile dittatore, non fa sì che gli elettori di centrodestra vadino a votare centrosinistra e non fa sì che elettori di nuovi passino al Partito Democratico. Non spostano i voti di chi realmente segue la politica. Magari può far andare a votare qualche indeciso, però è poca cosa. L'effetto che si ha quando si demonizza qualcuno è che prende poi più voti. l'esempio di Berlusconi, che per anni è stato attaccato come il Cavaliere Nero e lui ha governato per oltre dieci anni. Quindi l'attaccare una persona come fa il PD ha un effetto contrario a quello desiderato. E così Giletti se la prende con il PD. Dice, secondo me è un errore, lo stesso errore che fecero con Berlusconi. La battaglia va condotta sui contenuti, non contro le persone. Quindi non si fanno i partiti contro qualcuno, ma si fanno dei partiti con dei contenuti alternativi a quel qualcuno che si vuole battere. Quindi il politico che non la pensa come te è un avversario, non un nemico da screditare e distruggere politicamente. Insomma, il conduttore di non è l'arena ha le idee chiare. La battaglia del PD contro la Melloni potrebbe avvelenare la campagna elettorale. Inoltre potrebbe avere una sorta di effetto boomerang sul PD. Non è un mistero, infatti, che l'anti-berlusconismo degli anni passati abbia portato più voti al centrodestra proprio in prossimità degli appuntamenti elettorali. Poi Giletti parla anche di un possibile confronto TV e dice che i duelli televisivi non mi convincono. È ovvio che chi fa televisione sa che cosa funziona e tenta di portare nei propri programmi quello che crea ascolto. Però poi arrivano i lacciuoli della G-Com con le sue regole. È una competizione politica? Dice però che una televisione non funziona quando ci sono troppe limitazioni. Ma questo fa parte anche del discorso che abbiamo fatto tante volte sulla censura. La censura che vige dappertutto. Di questo puoi parlare e di questo non puoi parlare. Sono più le cose di cui non puoi parlare o a cui non puoi fare neanche riferimento delle cose a cui puoi parlare. Dice ma allora che cosa parlo? Solo delle farfalle che volano? Probabilmente prima o poi arriveremo al punto che si potrà parlare solo delle farfalle che volano. C'è una censura diversa da quella che c'era nei primi del novecento. Nei primi del novecento erano gli stati, i regimi che censuravano. Oggi sono gli imprenditori che censurano in base alle loro idee. Io sono proprietario di un mezzo di informazione, di un canale social e o dici quello che a me interessa, piace o tu sei tagliato fuori. Non dire qualcosa che a me non piace perché sei tagliato fuori. Quindi è una censura in base a quello che il proprietario di quel mezzo di comunicazione reputa corretto. Reputa corretto. Quindi tutte le norme, le regole, non parlare di questo, non dire quello, non ti azzardare a fare riferimenti. Sono le censure moderne che ci sono. Ne parlo proprio nel libro che sto scrivendo, Politica e Pastorizia. Poi quando è pronto ve lo dico. Certo è un po' rallentato perché con tutti gli impegni che ho non sono più riuscito tanto a scriverlo. Bene, intanto diciamo che i duelli, dice il conduttore Giletti, creano interesse, vengono seguiti ma non hanno grande peso nel modificare le idee di chi li guarda. Eh no caro Giletti, altro che se hanno un peso. Se mi fai un confronto elettorale, letta Meloni, il 22, quando il 25 si vota e gli indecisi si mettono lì a guardarlo che sono il 40%, altro che se convince le persone. Un duello televisivo fatto in prima serata, tre giorni dal voto, altro che se convince le persone. Solo che Giletti, lui ragiona sull'audience. A lui della Parcondigio non gliene frega niente, a lui della Gcom, delle elezioni politiche in sé non gliene frega niente. Lui vede solo l'audience. Lo ha dimostrato in questi ultimi tempi che lui è concentrato solo allo share, l'audience del suo programma. E lo ha improntato così. Avete visto che è andato fino fino là per fare la trasmissione, fa la gara a invitare la persona che nel momento è la più discussa. Insomma, lui fa un talk show e dice io sono il conduttore di un programma televisivo che per funzionare ed essere interessante deve fare ascolti e quindi faccio di tutto per fare ascolti. E anche sui faccia a faccia, che me ne frega della Parcondigio. È una cosa che piace, è una cosa che viene vista molto, fa audience e allora perché dire di no? Tanto alla fine le idee di chi ti guarda non cambiano. È un discorso un po' di parte perché lui farebbe di tutto per avere un confronto televisivo tra Letta e Meloni, un po' quello che ci fu nei famosi duelli tra Berlusconi e Prodi. E in quei duelli Berlusconi infatti recuperava sempre qualcosa perché televisivamente era più abile e nel gestire il mezzo televisivo, nell'usare il linguaggio innovativo. Però vinse Prodi anche se di poco i nostri politici sono troppo negativi per fallire dentro i meccanismi del duello televisivo, dice Giletti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, notizie fai da te. Poi questi video li trovate anche condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Grazie a tutti e arrivederci a presto.